Per anni e anni che siamo qua per lavorare, lavoriamo 7 più 7, lavoriamo anche giorno di Natale, giorno di festivo, domenica, prendiamo pochi, però anni e anni che abbiamo lavorato, ok? Quando è il comune che ha sistemato il nostro contratto, prima noi prendiamo 3,20 euro per l'ora, quando è il comune che ha sistemato il nostro contratto, è il comune che l'APS si sta dicendo che loro non hanno i soldi per pagare per 4 persone, però c'è l'amministratore che prende 300 mila euro a mano. Però noi 4, a fine anno che noi arrivano anche 45 mila euro a reddito e quindi che la Padova, che i cittadini a Padova che dà la mano alla gente che smascia le droghe, non è la gente che lavorano, grazie a Padova.